Stiamo trasmettendo su www.letteralmente.info Letteralmente Radio Studio 3 Cristina da Firenze Ricetta del cuore Spaghetti al saraceno con kombu 20 cm di alga kombu 3 carote, 2 cipolle, 1 cucchiaio di tamari 50 g di farina integrale di frumento Noce moscata, peperoncino rosso in polvere 400 g di spaghetti di grano saraceno Sale, olio extravergine d'oliva Lavate l'alga e mettetela ad ammorbidire in acqua per una mezz'oretta Quindi tagliatela a pezzetti e cuocetela in poca acqua o nell'acqua usata per l'ammollo Assieme alle carote pulite e tagliate a pezzettini Le alle cipolle sbucciate e affettate finemente Cercate di mantenere una fiamma piuttosto bassa Così da consentire una cottura delicata Condite con il tamari quando la cottura vi sembra pressoché ultimata Amalgamatevi pazientemente la farina sciolta in poca acqua tiepida Aggiungete del peperoncino e della noccia moscata E fate cuocere appena qualche minuto Passate poi a occuparvi degli spaghetti Dopo averli lessati in abbondante acqua salata Scolateli, versateli in una zuppiera Conditeli con dell'olio e mescolateli alla salsa preparata precedentemente Otterrete un piatto molto saporito dal sapore deciso Insieme marino e terrestre Una combinazione che passato un primo istante di incertezza Troverà sicuramente il vostro entusiastico consenso Grazie a tutti Grazie a tutti